Buongiorno, oggi è stata una bellissima iniziativa perché era importante dare un segnale e questo segnale è arrivato, non possono essere soltanto i cittadini a occuparsi della questione dell'aereo non possono essere soltanto alcuni imprenditori, alcuni giovani che stanno animando una mobilitazione importante, nella provincia ci vuole il sostegno delle istituzioni, il sostegno delle istituzioni che oggi è stato presente, i comuni sono stati presenti, i consigli comunali sono stati presenti, è mancata totalmente la presenza della deputazione regionale, assente da troppo tempo, ingiustificatamente. Abbiamo riscontrato una buona partecipazione, devono essere tutti a battere lì, sul tavolo della protesta, un peccato per quanto riguarda Marsala, una presenza scarna di consiglieri, di altri contesti civici che sono stati presenti praticamente in massa, Marsala ha avuto soltanto pochissime presenze, ma è una battaglia, è lunga, io sono fiducioso, sono convinto che poi il risultato lo porteremo a casa perché la politica, i cittadini si stanno mobilitando, questa struttura non può rimanere vuota e inattiva per come lo è adesso, sono fiducioso, Vincenzo, la battaglia la porteremo a compilità.